Se volete acquistare account o crediti a prezzi bassissimi rivolgeretevi a Francesco Salamone Trovate il link al suo gruppo tramite il quale contattarlo in descrizione Mi raccomando usate il codice coupon JUSTICE, tutto minuscolo, quando lo contattate per avere un ulteriore 5% di sconto Buona prima ragazzi, qui è JUSTICE, oggi siamo tornati con questo nuovissimo video Un video un po' speciale perché andrò ad affrontare David Mbix, un altro youtuber, trovate il suo canale in descrizione ma sicuramente lo conoscerete Con questa squadra di bronzi, anche lui ovviamente avrà una squadra totalmente bronzo Non lo so, l'ho costruita, adesso l'ho trovata su FUTED, vediamo come andrà Sarà veramente una partita interessante perché è inusuale giocare con dei bronzi Andiamo direttamente nel match Ok ragazzi ci siamo, andiamo a vedere la sua squadra Mamma mia Vediamo un po' Aia, Oduro in attacco Bolli, mamma mia 97 di velocità E poi gli altri non li conosco a dir la verità Ha il terzino sinistro che è lo stesso mio Non so come si chiama, non me lo ricordo Ma va bene, speriamo di vincere È un'ottima squadra comunque Mamma mia, speriamo bene Reserve Ancora lui Ancora lui Sul fondo, attenzione La papera Il tiro La palla in mezzo C'è il gol C'è il gol C'è il gol È un mezzo gol della merda Ma io in realtà ho premuto cerchio Questo qua con il piede a banana l'ha rimessa in mezzo Ma Non Non l'ho fatto sicuramente apposta Io qui avevo già tirato E l'ha rimessa in mezzo Ora non so se Vediamo un attimo come accordarci Se mi devo fare autogol Perché mi dispiace Però non l'ho fatto apposta Ragazzi Mi vado a fare l'autogol Perché non mi va di fare gol della merda Anche se non è volontario Ma comunque In queste partite Non mi va assolutamente Una cosa è contro un avversario sconosciuto Una cosa invece è così Non mi va proprio Quindi si ricomincia uno a uno Oddio Bello Non ci credo Dai Cosa Cosa ha sbagliato Non ci posso credere Non ci posso credere Sei un mongoflettico Mongoflettico Panettiere Panettiere Oddio no Oh my god Oddio che parata Che parata Madonna Prendila Non fare cappella No non ci credo Non ci posso credere Non ci posso credere Io lo sapevo Lo sapevo Ho detto Prendila Non fare cappella Infatti E infatti Mamma mia Cioè Io non posso essere arrabbiato Questo è mongoflettico Veramente Questo è spastico È spastico Che cosa c'ha Cioè Che cosa Olè Grande È un fenomeno Matrix Veramente Eccezionale No 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 anche lui Si fa l'autogall Mamma mia Questa è una partita Veramente Correttissima Veramente Tutte cose Dovrebbero essere Anche lui Grande gesto Anche il suo Fine primo tempo Mamma mia Che partita Una delle partite Più divertenti Che ho abbia mai giocato In tutto FIFA 15 Qualcosa di assurdo Io ho fatto solo Un tiro in porta Vabbè Però ci siamo Siamo in partita Non siamo Troppo mongoflettici Oddio Oddio è partito Oddio è partito L'ha visto Gaddis Gaddis Corri Corri Gaddis La pala a me Oddio No Perché il suo non ha fatto La super paperata No Perché il suo le prende Il mio Va puttane Subito in mezzo Oddio che paracattato Non ci credo Che cross che ha fatto Quello lì è troppo forte Quel giocatore Cioè Che cross ha fatto Nemmeno Ronaldo Faceva un cross del genere Mamma mia Questo di testa Porca puttana Porca Oddio no Mamma mia L'ha presa Che cos'è Perché Carcio di rigore Per cosa Per cosa No voglio vedere Ma cos'è Ma che Ma che cosa Ma dove Ma dove Cosa dove No Cioè Portiere facci il suo miracolo Ti prego Te lo giuro Ti vengo a Incontrare dove giochi Ti stringo la mano Te lo giuro Fammi il suo miracolo Ti prego Ti prego Ti prego No Spiazzato Porca puttana Rigore A mio parere Inesistente Però vabbè Vabbè La stavo giocando Questa partita Quindi Ci sta dai Cioè non è che ci sta Però ci sta Cioè c'è stato Quindi ci sta Vabbè Non lo so Che cazzo fai Via Escobar 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 No No Escobar Vaffanculo Vai a fare le pizze Vai a fare le pizze Mortaci tua No 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 Abbiamo sprecato St'occasione Eccezionale No non ci posso credere Escobar Sei un Pizzettaro Mamma mia Mamma mia Non ci credo Oddio Riparti Escobar Fai schifo Va bene Abbiamo perso Mamma mia Che partita però Veramente Emozionante Escobar Vai a fare le pizze Veramente Vai a vendere la frutta Al mercato Veramente Non è possibile Fai schifo Sei una pippa Io ho preso solo per capire Quattro stelle skill Ma fai schifo Quale Sono a merda Muori Devi morire Escobar Bastardo Non ci credo Vabbè 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 Sono proprio di curioso Di vedere Quanti ti importa Mamma mia Eh quasi uguali Vabbè dai Ci sta Ci sta 3 a 2 Per David MBX Mi raccomando Vi lascio il suo canale In descrizione Passateci E niente Questa squadra Per essere una squadra bronzo Va anche bene Alla fine Tranne questo qua Che è veramente scasso Escobar Bastardo 59 di dito Fai schifo però Fai veramente schifo Vi ripeto Passate al canale David MBX Se non mi impappino Lasciate un like A questo video Se vi è piaciuto Noi ci vediamo Alla prossima Vi ringrazio Come sempre La visione Ciao a tutti